l'angolo della posta piccolo spazio pubblicità ciao, grazie buongiorno ciao 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 ragazzi è una delle più che cominciano a fare un po' di video tanto per cambiare un balletto o no? stiamo facendo il video un balletto non potete fare un balletto non potete fare un balletto eccolo qua e vai è d'agosto da sogno e poi grande giornata oggi a luna si mangia ciao buongiorno tu vieni da? Trento provincia di Trento la Verusca viene da? Pesalo tutto d'incontro sul bacino è l'appassionata di Celescina oggi c'è il mondo al bacino si è l'appassionata di Celescina per la prima per la prima Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.